Il mercato del latte ci è stato illustrato da una lunga teoria di dati assolutamente interessanti e ci aiuteranno molto nello sviluppare le nostre strategie. Quello che ci aspettiamo è che i consumi tengono fondamentalmente perché noi sotto il profilo industriale e commerciale ci siamo decisamente attrezzati negli ultimi anni. Abbiamo bisogno di una capacità di acquisto di spesa del consumatore che per noi ormai è un consumatore globale e abbiamo bisogno di interpretare il trend che svilupperà nei prossimi anni dal punto di vista dei gusti e delle differenziazioni da parte dei consumatori. Naturalmente muovendoci su uno scenario globale la nostra ampiezza deve essere assolutamente molto profonda e quindi riteniamo di poter comunque mantenere un discreto processo di crescita. Tuttavia alcuni nuvoloni si stanno addessando e sono principalmente di natura finanziaria. Spesso l'azienda è una piccola azienda individuale e si fa fatica a fare rete, a mettersi insieme. Ecco, è vera questa cosa? E se sì, perché non si riesce ad andare oltre? Questa è verissima. Probabilmente noi abbiamo anche una sorta di gap culturale che supereremo perché ne saremo costretti a ciò. D'altra parte noi stiamo anche aiutando il nostro personale ad avere una capacità di visione che sia veramente 360 gradi. Sovente ci confrontiamo con i più grossi operatori stranieri e lo facciamo con un'intenzione e con un'umiltà che dovrebbe aiutarci ad apprendere quanto prima tutti questi schemi mentali. Tante volte vediamo anche che il sistema di pensiero italiano è un po' agé e abbiamo bisogno veramente di innovare da ogni punto di vista e soprattutto di acquisire un po' di sano pragmatismo a scapito di troppa filosofia.